vi ho mostrato tante volte tie-in videoludici in pratica videogiochi che sono tratti da film che hanno un buon successo commerciale ebbene dopo aver scavato a fondo ne ho trovato uno che non è il primo di una serie ma è quello più nascosto v framed roger rabbit uscito nel 1988 lo vediamo per sistemi ms dos visto che dobbiamo per prima cosa vedere la storia beh se avete seguito l'omonimo film del 1988 allora la conoscete già se non lo conoscete forse avreste dovuto recuperare la videocassetta o il dvd un bel po' di tempo fa perché a me lo conoscono anche i muri ma vediamo ovviamente la grafica che vi devo senta male perché ho notato che questo titolo presenta ok una schermata iniziale che certamente sembra estrapolata dal film ok e non è niente male poi abbiamo anche le ambientazioni visto che parliamo anche addirittura della parte giocata che è importante che sono ovviamente ispirate a quelle dell'omonimo film ovviamente io ho notato che forse non sono tra le più belle che ho mai visto vi spiego design è carino certo molto ispirato alla fine anni 40 è vero ma mi sarei aspettato forse qualcosa di più curato perché se nel 1988 nel mesno se si riusciva a sfruttarlo bene comunque posso dire semplicemente che i personaggi non sono proprio fatti male le animazioni sono praticamente molto buone ok e nonostante il periodo lo so non siamo su un super nintendo però siamo a un livello diciamo discretamente buono grafica molto tratta dal film carina da vedere e simpatica in pratica da guardare ecco potevano forse migliorare un pochettino alcuni dettagli nelle ambientazioni ma niente di più è tutto qua sonoro vi dico che è molto da 8 bit effetti sonori semplici carini da ascoltare ok poi musiche di sottofondo un po ripetute ma del resto sono su floppy disk che non sono riprodotte su cd e ho notato che sono simpatiche ad ascoltare ok si ispirano a quelle dell'omonimo film ma vanno più che bene ed ecco c'è la giocabilità questo vframed roger rabbit cos'è? beh a quanto pare sembra un gioco platform con una certa varietà ma come funziona? vi dico già che il gioco è strutturato in solo 4 livelli che non sono forse tra i più difficili che ho mai visto anzi devo dire che forse in alcuni frangenti sono abbastanza stronzetti come giochi però almeno offrono una buona varietà perché il primo livello è un livello di guida roger che guida bene il taxi che deve raggiungere il pick up delle faine al servizio di morta poi nel secondo livello invece si va al club inchiostra e tempura in cui roger deve raccogliere i pezzi di carta che servono per comporre il testamento di un certo marvin acme nel terzo livello invece si guida ancora benny nel quarto invece all'industria acme roger deve salvare jessica da queste faine ovviamente sono le quattro scene fondamentali del film trasformate in un videogame e che vi devo dire difficoltà è alta forse un pochettino però ho notato che forse dal secondo livello in poi vedrete che diventa un po' più difficile insomma un titolo che non è lunghissimo lo so perché c'erano titoli MS-DOS molto più lunghi di questa roba è vero però non erano proprio da buttare da buttare considerato il fatto che questo non è nato come gioco a sé stante ma come ta individuo ludico dell'omonimo film si può provare a dargli una possibilità quindi se lo volete recuperare oltre ad esistere per MS-DOS che è la versione migliore c'è anche un adattamento per Amiga, Apple 2, Commodore 64 e Atari ST che sono però versioni un po' strozzate ma nel resto provate lo stesso ci vediamo al prossimo video amici ciao ciao